guarda no io non ci posso credere no dai raga bella gentaglia di shikoku io sono luke e oggi insieme a mango vi farò vedere una cosa bellissima ma bellissima bellissimissima quanti di voi giocavano a fortnite un anno fa beh il gioco era molto diverso e ora lo vedrete mi raccomando dobbiamo arrivare almeno a 10.000 mi piace se volete un'altra reaction con drift il pavone quindi facciamo diventare blu il pollicione qua sotto e vi ricordo che se usate il codice shiko come supporto a un creatore su fortnite e taggate gli uke in una storia di instagram in cui sciopate qualsiasi cosa lui non solo reposterà la storia ma in più risponderà ai messaggi tutti i giorni detto ciò buona visione eccoci qui ragazzi siamo super pronti per fare la reaction e la prima cosa che vediamo è il me di un anno e qualcosa fa che bello scuro e liscio molto liscio per fortuna che il tempo passa a fermo un attimo prima di iniziare il video scrivimi nei commenti da che stagioni di fortnite giochi io dalla stagione 1 a parte questo quindi ho deciso di farvi vedere questa partita che sarà molto più giovane che brutta questa cosa veri più giovane è un anno fa un mio dio che bello la stagione 5 era ragazzi guardate come era diverso il mio setup prima contro adesso guardate che differenza cioè è diventato una kinder pane ciocca adesso il muro tuo ok vando alle ciance vediamo subito come si giocava nella stagione 5 di fortnite un anno fa la vecchia mamma mia una cosa che non mi manca la vecchia connessione avevo 87 di ping mamma mia 95 no 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 grazie mille per averla cambiata luke se avevi fatto una buona decisione ok quindi ho deciso il mio vecchio posto preferito in realtà non ho ancora un posto preferito per la nuova mappa però ai tempi era c'è ancora rapide c'è rapide ragione ora che ci penso beh è diverso non c'è più pinnacoli pinnacoli è tutto diverso oddio il vampa grigio che strano le doppie pistole la slurp quanto tempo cioè ci pensi più di un anno nulla guarda che mira che avevo già avevo più mire i tempi che ora 2 kg attenzione mi sa che era il mio record mi manca tantissimo sta mappa troppo 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 in effetti sì però piano piano ragazzi con il tempo ci affezioneremo anche alla mappa nuova una cosa a cui non ci affezioneremo è mango perché è brutto ma non è bene queste cose brutte cattivo no io quella nuova già mi sono abituato c'è bellissimo ma è vero noi dicevamo le armi ma uffi non vedevano loro ecco queste erano le armi e io che le usavo c'è sto io beh si eri sopra le armi avevo ucciso 25 ma attenzione poi non segnavano nemmeno le kill di squadra tra l'altro è vero quindi è no forse alla fine alla fine si trovi no neanche alla fine no no sapevi proprio solo le tue kill alla season 10 ok qui eravamo la season 5 e beh un anno fa esatto ragazzi mi ricordo che era appena iniziata la season 6 più o meno oh mamma mia ma guarda che ritardo nel building che c'era io non me ne sono mai inteso di queste cose non c'ho mai capito niente è praticamente quando metti una costruzione ci mette tanto tempo a mettersi e quindi nemici ti sparano io non costruivo mai quindi guarda che builder attenzione ma che cavolo mamma mia mi fai paura questa casina era sempre era rapide poi si si spostava su questa casina è vero davvero no non mi spara non scherzavo ti giuro che io a volte faccio fatica a capire se sei tu nel futuro tu del passato che parli in questo video mi confondo tantissimi o c'era il cubo che girava per la mappa è vero è la stazione 5 col cubo ma guarda che mira ho fatto un solo colpo 33 l'ho buttato a terra il numero 1 incredibile no dai raga anni non sapevo fare ancora neanche pavimento muro scala beh per manga una roba non è vero andava di modo a scendere così io li so fare il yuk calma no raga io non ci credo cioè si parla proprio di di mode di fortnite che sono ormai passate come già è assurdo vai sparagli col pompa del nonno quando era ancora una buona arma sette chi rift che fa rima con drift drift il pavone drift è di questa stagione questa è proprio la stagione di drift della serie drift bella lolina la riva mamma mia bellissimo attenzione vediamo se ero ecco quel cecchino ragazzi sempre stato una grandissima pippa esatto attenzione c'era un nemico no raga eccolo nascosto dietro una margherita dietro un fiore io non ho cioè ai tempi non servivano i bots perché c'ero già io in partita guarda guarda che cosa hanno che cosa ha messo guarda guarda no io non ci posso credere beh perché il nascondiglio ha funzionato dietro un fiore guarda oh la è qua ha funzionato il colpo bravo ed ero anche felice oh mio dio hai sparato a uno seduto è fatto una kill attenzione un gruppo di nemici fortissimi che utilizzavano le tipiche skin della stagione 5 una cosa che ho notato ragazzi che i tempi si comprava il pass battaglia e poi mentre passava la season tutti pian piano usavano le skin della season ora le skin della season del pass battaglia non se le cacca nessuno non so se ci fai caso proprio ma proprio zero non vedo nessuno forse perché escono skin più belle nello shop in effetti eh sì non esce niente di epico come drift proprio niente di che proprio la guardia dice questa skin è ma vedremo nella stagione 2 barra 12 attenzione attenzione questo push guarda che no beh in effetti poverino me dei tempi è impossibile villare così cioè guardate che ritardo e non mentale di mango è il ritardo nel ma guarda si posizionano dopo tre ore ma sei sicuro forse sei tu no 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 cioè ti giuro mango guarda ma si vede proprio sei tu che sei lento ma risparo è facile dare la colpa alla connessione non a fortnite fortnite è sempre stato bellissimo bravo sei tu che sei brutto fortnite bello e tu brutto non la capisci la cosa è soltanto una tartaruga lenta lo manca attenzione c'erano dei nemici nei paraggi immagino che ero proprio sveglio e cioè dovevo guardarle le armi per prendere guarda che faccia hai preso quella grigia poi cioè io non ci credo guardate che faccia che avevo per favore guardate un attimo la mia faccia proprio mi tirerei una sperla ma non guarda non hai preso le cose torate e hai preso quello grigio ma che vuol dire poi metto le trappole anche no raga perché però bisogna ricordarsi del fatto che era agosto 2018 è cambiato tanto fortnite è cambiato tanto ve lo giuro che c'entra non c'entra niente incredibile ragazzi c'era la safe 12 persone che bello però quando erano tutti più lenti tutti più tranquilli tutti coi fortini in giro perché c'è un nemico lì ma sparagli no non l'ho neanche notato guarda che stupido che eccolo lì spara ecco non l'avevo visto che cecchinatona quella lì in realtà non so farle neanche ora cioè non è cambiato nulla attenzione guardate che i 90s un primo 90s una prova storica del 90s io sono appena morto da uno no skin fermo che mi sparava mentre era fermo e ha avuto il tempo di cecchinarmi e io mentre sparavo con la r non è che mi muovo un pochino a destra e a sinistra ragazzi potete andare tutti quanti a mettere un dislike a quel video tutti tutti si intitola un pro player mi fa fare un sacco di kill un po è la connessione lenta e un po sono io 9 10 kill però è c'è da dire 10 kill e facciamo farlo altro luke di vediamo un po cosa direbbe luca questo altro vediamo di un po vediamo e niente vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di passare dal link in descrizione che troverete che troverete il canale di mango io vi ringrazio tantissimo per i 128 mila iscritti e niente ragazzi 28 mila forse ne abbiamo un po più di 128 mila aspetta qua erano 28 mila 128 mila ok ho capito ora siamo a 277 mila sono cresciuti un pochino un pochino video una cosa che ragazzi non è cambiata assolutamente è il fatto che le autore di chicoco g sono sempre fighissime perché io e mango per ora non possiamo far altro che soltare ringraziarvi perché noi come al prossimo video mango saluta bella